Ne parleremo per giorni, settimane, mesi, anni. Ne parleremo per decenni. Questa è la verità. Studieremo che cosa è accaduto, come è accaduto. Ascolteremo storie di eroismi e di cotardia, investigazioni, reportage. Scopriremo verità nascoste e illuminanti storie di dedizione. Ci racconteremo dei tanti, troppi, familiari deceduti, di amici, nonni, perfetti sconosciuti a cui sono state strette le mani da altri sconosciuti che li hanno accuditi come se fossero la loro famiglia. Ascolteremo e ci tramanderemo racconti strazianti di dolore, di gioie ritrovate, di speranze perdute. Racconteremo delle centinaia di medici e infermieri morti mentre svolgevano il loro lavoro e il loro dovere. Già, il loro dovere, come se avessero dovuto farlo per forza. Lo avevano scelto molto tempo prima di dedicare la vita a chi soffre, a chi è in pericolo. Lo avevano scelto nel silenzio di tutto e tutti e hanno fatto il loro lavoro con le spalle dritte, anche mentre mancavano gli strumenti per svolgerlo. Ho sbagliato. No, non è il loro lavoro, è la loro passione che li consuma. Passione che non conosce orario, che non conosce impresa impossibile, pur di salvare una vita. Ci racconteremo di come è stata dura in prima linea e molti probabilmente non lo racconteranno, perché si porteranno cicatrici che non li lasceranno mai in pace. Continueranno a chiedersi se potevano fare ancora qualcosa di più. Abbiamo il dovere di narrare quanto è accaduto, fissarlo nella nostra memoria per poi consegnarlo a chi verrà dopo. Dopo i giorni del dolore, della paura, della forza di reagire. La storia di medici, infermieri, operatori sanitari che si sono stretti uno di fianco all'altro e hanno resistito all'onda d'urto di un nemico invisibile eppure potente. Di come i camici bianchi sono diventati un simbolo di uomini, donne che si sono caricati sulle spalle tutta la nazione per salvarla. Abbiamo tante domande, troppi interrogativi, ma abbiamo bisogno della parola per commemorare chi non è più tra noi. E conservare la loro memoria è il nostro impegno per i decenni a venire e per quelli ancora successivi. Si comincia da questo libro.